Anche a te piace fare l'orto? Allora ti faccio vedere il miglior modo per preparare il terreno. Ciao, sono Roberto. Aiuto le persone a realizzare e gestire i giardini in modo semplice e salutare e sostenibile. Qui c'è un piccolo orto, non è il mio, ma ti posso assicurare che lo fanno con grande amore. Bene, adesso ti faccio vedere come andrò a preparare il terreno o perlomeno una parte. Innanzitutto ho tagliato quella po' di erba che c'è da Rinata con il decespugliatore senza stare a sbarbare le radici perché le radici è bene che rimangano sottoterra e creino sostanze particolari che poi vadano ad arricchire il terreno soprattutto quando c'è molto trifoglio che rilascia azoto. E non so se lo avrai già notato ma gran parte è già stato lavorato. E te dirai, come è già stato lavorato? Non si vede niente? È proprio questo il bello. Infatti bisogna andare a valutare cosa si intende per lavorazione del terreno. Se per te lavorare il terreno significa ribaltarlo sotto sopra con l'aratro o con la vanga in modo da far sparire tutta questa erba e portare a vista un terreno sgombro pulito da tutto ascoltami bene perché è ora che tu cambi approccio. Infatti la lavorazione del terreno serve più che altro ad andare a dissodare cioè andare a rompere il compattamento che si può essere creato con il passaggio anche solo con i piedi oppure con dei mezzi oppure ancora con la pioggia, il vento, insomma il terreno tende a ricompattarsi con il tempo. E quindi per dare modo all'acqua di penetrare in profondità, arrivare alle radici delle nostre piante oppure ancora per dare modo di arrivare anche ossigeno che è indispensabile a tutti i processi biologici è importante che il terreno non sia troppo compatto altrimenti si potrebbero creare anche dei fenomeni di ristagno idrico che per le nostre piante potrebbero essere deleterie. Quindi l'obiettivo principale della lavorazione del suolo è andare a scassare, a rompere un po' questo compattamento. Ecco come vedi qui puoi vedere che ci sono delle fenditure, delle rotture. Ecco io queste qui le ho praticate con un attrezzo che non è la classica vanga quella che serve per rivoltare il terreno ma una vanga forca. In pratica è tipo un forcone, molto più pesante e robusto. Adesso ti faccio vedere un po' qual è il movimento e ti spiego anche la differenza che c'è tra questo e una classica vanga. Come vedi qui ho già fatto, anche se si nota a malapena, il terreno è già stato scassato. Io non ho rivoltato alcun che e questo perché è importante che gli orizzonti del terreno rimangano tali e quali in modo da non andare a disturbare né la fauna che c'è, tutti gli insetti, i lombrichi, né la microbiologia, quindi funghi e batteri. Ecco lasciare il suolo così com'è è importante per questo perché se no ribaltandolo si rischia di andare ad alterare gli equilibri. La lavorazione è anche più semplice e meno faticosa rispetto a una vangatura. Ci vuole un po' di forza nello spingerlo dentro anche perché questo è un terreno che non ha un granché di sostanza organica e è più di un anno che non è stato mosso, quindi vedi ci vuole un po' di peso per infilzare la forca ma una volta che è dentro basta tirare, guarda, con una mano sola indietro e basta, non c'è da fare granché. Quindi l'unica fatica che ci può essere è quella di fare un po' di peso, caricare un po' di peso con il piede sulla forca e poi niente di più. Più le fai piccole, queste zolle, e meno fatica fai poi per alzarle. Considera che vado profondo tutto questo pezzo, quindi non è poco, siamo nell'ordine dei 30 e passa centimetri. Quindi come lavorazione per un orto è più che sufficiente. E' un lavoro alla portata di chiunque questo, è un lavoro proprio che diventa un gioco da ragazzi. Vedi? Poi puoi anche ruoteare il manico per estrarlo meglio. Ecco, poi prendersi la mano che vuoi, alla fine non è neanche più lento rispetto alla vangatura normale. Considera che la vangatura, ogni singola zolla che fai, la devi prendere in mano così e rigirare. Ecco, quindi ti prendi in mano tutto il peso dell'intera terra che muovi. E' per quello che poi, a fine giornata, la schiena rotta, specialmente se non ci sei abituato. In questo modo non hai da prendere niente di che. L'unica cosa che rischi è un po' di sollecitazione qui alla scarpa, sotto il piede. Cioè, ma non è che ti faccia male. Magari dopo un po' ti puoi anche riposare. Puoi, volendo qui, far saldare un piccolo piatto di ferro per rinforzare un po' qui ed avere un maggiore appoggio e quindi spingere meglio e avere meno sollecitazione sul piede. Ma queste sono proprio sottigliezze. Ecco, come vedi, il lavoro precede benissimo. C'è da dire che questo terreno non è nemmeno troppo umido. Qui è molto che non piove e il terreno, se fosse stato un capellino più umido, sarebbe stato molto più lavorabile. Infatti sotto, sotto è ottimo, come vedi, è in tempra perfetto. Quando il terreno si sbriciola così come fosse un pan di spagna è perfetto. Però i primi centimetri sento che è un po' duretto, che è un po' asciutto. Vedi? Questo perché è tanto che non piove. Ecco, mi raccomando, non lavorare mai il terreno quando è troppo bagnato. Soprattutto se si tratta di un terreno argilloso. Perché in quella maniera, oltre che a durare più fatica, rischi invece di fare bene e di sodare, di compattare. Quindi, mi raccomando, non lavorare mai il terreno quando è troppo bagnato. E comunque neanche quando è troppo secco, tipo a fine estate. A parte in quel caso diventa duro, che è quasi impenetrabile. Però ecco, lo devi sentire. Quando entra bene, senza tanta fatica, e lo vedi che si sbriciolano le zolle, allora vuol dire che il terreno è proprio nel momento giusto. E te ne accorgi perché è anche più divertente a lavorarlo. E il lavoro scorre che è un piacere. Ecco, vedi? Una piccola scassata così. E basta. Ed è più che sufficiente. Ora, dopo che è stata fatta questa lavorazione, ci sono altri passaggi da fare. Poi hai alcune alternative. Puoi apportare sostanza organica e andare a migliorare la struttura del terreno. E magari anche incorporandola un po' con una leggera zappettatura. Poi vai a mettere le tue piantine e puoi fare sopra una bella faccia matura di paglia, o meglio ancora, fieno. Questo terrà il terreno coperto e aiuterà le piante a soffrire meno per la siccità. Un'altra cosa che puoi fare è andare, soprattutto se devi fare delle semine, andare a dare una piccola affinata, ma ti parlo dei primi 5, massimo 10 centimetri, con un motocoltivatore e meglio se invece della fresa c'è l'erpice rotante, che è un attrezzo che lavora con dei coltelli per l'asse verticale. Lavora un po' come fosse un frullatore invece che la moto zappa. Questo perché riesce a affinare il terreno, ma non lo ribalta. E la moto zappa è un po' sconsigliata, soprattutto se fai molti passaggi, perché tende a compattare il terreno e soprattutto a creare una suola di lavorazione. Infatti la cosa peggiore che tu possa fare è entrare in un terreno come questo senza averlo scassato prima, subito con la moto zappa. Ecco, anche se riesci ad affinare quei 10 centimetri che sono lavorabili e ti permettono di piantare con facilità, sappi che sotto hai creato una specie di soletta impenetrabile. E lì l'acqua non riesce a defluire, si possono creare dei ristagni e oltretutto anche problemi di asfissia radicale. Quindi, mi raccomando, evita la moto zappa come unico attrezzo. Se proprio ce l'hai e la vuoi utilizzare, prima dai una scassata con la vanga forca e poi una passatina proprio andante, leggera, in modo da affinare proprio quei centimetri che ti servono per coltivare e soprattutto per andare un po' a sminuzzare, incorporare, come qui, se c'è un po' di erba che magari dopo un giorno o due si secca. Addirittura questa la potresti anche lasciar seccare e togliere con il rastrello, creare una specie di fieno e poi riutilizzarlo per spacciamare le tue piante. Come vedi, anche l'erba, invece di essere considerata una infestante o comunque un qualcosa di fastidioso, può diventare una risorsa. Tutto sta ad avere l'approccio giusto, utilizzare gli attrezzi più indicati e soprattutto non forzare troppo la mano. Questo è importante. Anche con la terra, con le piante, ci vogliono i suoi tempi. Occorre avere rispetto e sapersi accontentare. Soprattutto se fai un orto domestico, l'augurio che ti faccio è che tu possa avere dei prodotti sani, genuini, oltre che buoni. È inutile autoprodursi il cibo se poi utilizzi delle pratiche sbagliate, utilizzi la chimica, utilizzi dei prodotti che poi porti in tavola. Ecco, questa è la cosa peggiore che possa fare. A quel punto ti conviene comprarla, ti costa molto di meno. Se invece, come me, ti piace mettere le mani nella terra, stare all'aria aperta e a fine giornata portare qualcosa in tavola da poter condividere con la famiglia, con gli amici, il modo migliore è quello di garantire per tutti il massimo del gusto e della salute. Quindi la prima cosa che devi fare è partire dalla salute del suolo. In un suolo sano, ricco di vita e di elementi, le piante sono più sane, si ammalano di meno, vengono attaccate di meno dai parassiti e riescono a produrre dei cibi veramente salutari, proprio di tocca sana per il tuo benessere. Questo è un lavoro che è da riscoprire e se mi stai seguendo, probabilmente te ne sarai già accorto. Ti fa bene a più riprese. Quando siamo qui, che siamo baciati dal sole e produciamo vitamina D, facciamo esercizio fisico, ci alleggeriamo dai pensieri e quindi dallo stress e poi quando portiamo a casa dei prodotti dei quali ci nutriamo e integriamo l'energia e i minerali che abbiamo perso con il nostro lavoro, con il nostro sudore. Ecco, questo è veramente il trucco per il benessere e per la salute fino a una veneranda età. Se ti interessano questi argomenti e vuoi approfondire anche su come gestire il terreno del tuo orto, del tuo giardino, vai sul sito www.giardinofuturo.it dove trovi tutti i link a vari canali dove pubblico una valanga di contenuti e se vuoi accedere alla newsletter puoi scaricare fin da subito la guida con i 10 fondamenti del giardinaggio sostenibile, in pratica l'ABC del mio metodo. Ti ricordo che il futuro dipende anche da te e soprattutto da come coltivi la terra del tuo orto e del tuo giardino. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!